Ciao a tutti e ciao a tutte! Eccoci con un altro appuntamento con l'alfabeto della resilienza. Oggi è la giornata della G. Forse alcuni di voi sapranno che io ho una bimba che si chiama Ginevra, quindi la prima parola che mi viene in mente inevitabilmente è quella, ma non è del tutto fuori tema perché la G o meglio le G di cui vi voglio parlare oggi sono proprio collegate ai bimbi. G di gioia, G di gioco. Soprattutto in tempi di crisi, soprattutto in tempi di difficoltà abbiamo bisogno di distillare momenti di gioia e questo lo si fa anche attraverso il gioco. La vita per alcuni è un gioco, nella letteratura è stata spesso utilizzata questa metafora, ma che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo saper trovare dei momenti di leggerezza, anche nella difficoltà. Vuol dire che dobbiamo saper lasciare da parte, almeno per qualche attimo durante la giornata, la regola, il controllo, la rigidità, la previsione fosca sul futuro. In un certo senso anche un po' abbandonarci a qualcosa che sembra superfluo, a qualcosa che sembra inutile, che sembra una perdita di tempo e invece cambia tutto il nostro mondo interno e quando cambia il nostro mondo interno cambiano le cose. C'è una chimica della gioia e questa modifica la nostra fisiologia e anche il nostro sistema immunitario. La gioia interiore è qualcosa che accade senza motivo, accade per il solo fatto che tu riconosci che ci sei. Allora impariamo dai bambini, impariamo dalla natura. Per il solo fatto che ci sono, per il solo fatto che io sono qui e ho un posto in questo mondo, ecco questo è già un motivo per permettermi e darmi il diritto di sentire almeno un attimo di gioia e almeno un attimo di gioco.